Avrebbero minacciato e aggredito una dottoressa e due infermieri in servizio al pronto soccorso degli ospedali uniti di Foggia per costringerli a modificare la diagnosi e la proniosi nei confronti dei figli minorenni con l'obiettivo di lucrare indebitamente presso la compagnia assicurativa dell'auto con cui si era verificato in precedenza un sinistro stradale. E quando scoperto gli agenti della scuola mobile di Foggia che hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura coercitiva consistente nell'obbligo di dimora nei confronti di tre persone di 25, 22 e 21 anni. Per loro le accuse sono in concorso di violenza e minaccia pubblico ufficiale e lesioni personali e gravate. Il fatto è venuto il 13 febbraio scorso quando i tre si erano presentati al pronto soccorso del nosocomio Dauno minacciando la dottoressa e gli infermieri vantando anche amicizie con la criminalità locale. Ti stacco la testa, esci fuori che ti riempiamo di botte, alcune delle frasi utilizzate dai tre. Ma oltre alle minacce verbali i tre avrebbero anche colpito il medico e gli infermieri con calci, pugni, morsi e graffi tanto dover ricorrere alle cure ospedaliere e tanto che un infermiere ha riportato anche la frattura del setto nasale.